Buona domenica. Bentornati all'appuntamento meteo. Le condizioni atmosferiche di questa domenica saranno all'insegna del bel tempo, delle temperature pressoché primaverili, anche abbastanza alte per il periodo, che si attesteranno tra i 23 e i 26 gradi durante il pomeriggio, quindi una domenica meravigliosa. La situazione tenderà ad essere stabile almeno fino alla giornata di domani, quando domani sera un impulso di aria dal nord-est entrerà dalla porta della Bola, ma questa sarà materia di domani. Quindi godiamoci della giornata e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.